Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Leone, tendenze energetiche generali per la seconda metà di settembre 2023. E andiamo a vedere e abbiamo l'imperatrice, amici del Leone. Quando c'è l'imperatrice si parla di abbondanza, di prosperità, del settore delle arti anche e molte volte fa riferimento a una madre o alla maternità. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso volete completare il vostro messaggio vi consiglio di ascoltare l'ascendente segno lunare o venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione. Sempre nella descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi e altri link a video che potrebbero esservi utile. Colgo anche l'occasione per dire che finalmente ho ripristinato Whatsapp, quindi tutte le persone che insomma hanno già il numero di telefono, se per caso mi avete scritto in questo mese di agosto, adesso sono di nuovo operativo, quindi se avete bisogno mi potete scrivere. Se invece non avete il numero di telefono il primo contatto via mail. Allora partiamo con la regina di denari al contrario, un re di spade, un fante di denari, un dieci di bastoni, la carta del giudizio, otto di coppe e la forza. Ragazzi, la regina di denari può rappresentare una persona intorno a voi, visto che qui comunque abbiamo anche l'imperatrice, per qualcuno potrebbe fare riferimento alla madre, o potrebbe anche essere un superiore al lavoro, magari qualcuno che è un supervisore o qualche capo, diciamo così. Abbiamo anche un re di spade, andiamo poi a vedere dopo se è proprio una persona, in tutte e tre i casi, perché comunque qui avete tre figure, o se sono energie. Il di spade di solito fa riferimento al aver raggiunto un certo tipo di risultato che non è completamente finito, ma che ha bisogno di essere ancora ritoccato da qualche parte. È come se ci fosse, se fosse per esempio un'energia e non fossero persone, è come se ci fosse una sorta di bisogno nella seconda parte di settembre, di approfondire qualche tipo di argomento per riuscire a portarlo a compimento. Qui abbiamo un dieci di bastoni, il dieci di bastoni è un dieci, effettivamente è una carta di compimento, ma è come se doveste lasciare indietro qualcosa. Vi ricordo che un re di spade ha la spada, taglia, probabilmente c'è bisogno di tagliare qualche questione o di terminare appunto, di concludere qualche situazione. Queste carte poi le andiamo a vedere direttamente con i mini tarocchi. Ripartiamo dalla regina di denari, andiamo a vedere che cosa riesco a dirvi di più preciso. Abbiamo un dieci di denari e un asso di coppe. Allora c'è una carta che fa riferimento alla famiglia, quindi può essere una madre oppure anche un gruppo ragazzi, un gruppo lavorativo intendo. Quando c'è il dieci di pentacoli si parla di un gruppo grosso o di una famiglia grossa. C'è un asso di coppe, quindi per qualcuno può rappresentare magari una nascita in famiglia, per qualcun altro una nuova idea all'interno di questo gruppo, all'interno di questa comunità. E' anche una carta che parla di contratti, il dieci di pentacoli è una carta che parla di festeggiamenti, di contratti, di un'unione stabile. Però avendo la di denari e il contrario, come la sensazione che... manchi qualcosa ragazzi. Andiamo a vedere il re di spade. Ok. Abbiamo un tre di pentacoli e un nove di spade. È qualcosa che ha a che fare con le collaborazioni. Probabilmente c'è questa questione che deve essere ancora conclusa, terminata, che vi dà insomma da pensare. Il nove di spade è sempre una carta di preoccupazioni. Andiamo a vedere il fante di denari. Cinque di spade e nove di pentacoli al contrario. Ragazzi, il nome di pentacoli parla di, in questo caso, dipendenza. Può essere che non siate completamente indipendenti da un punto di vista economico, da un punto di vista monetario, per qualcuno caratteriale, è come se non ci fosse una sorta di intraprendenza, perché comunque c'è anche un cinque di spade, c'è una sorta di confusione, inerente a un nuovo percorso, o una nuova persona all'interno di questo gruppo, una nuova amicizia, un nuovo incontro, potrebbe essere visto che c'è un asso di coppe. Come se ci fosse una persona nuova nella vostra famiglia e si dovessero mettere a posto determinate cose. Andiamo a vedere i dieci di bastoni. Ragazzi, se per caso aveste un lavoro o un'azienda familiare, per qualcuno ci può essere questo desiderio, questa necessità di intraprendere qualche cosa di nuovo da soli, ma è come se non foste abbastanza preparati per farlo. Allora, il dieci di bastoni è spiegato da un quattro di pentacoli e da un quattro di spade. Può essere che ci sia qualche tipo di credenza, di attaccamento o di credenza legato ai soldi, alla prosperità, che non vi fa vedere le cose realmente come sono. Il dieci di bastoni normalmente è una carta che indica la necessità di lasciarsi indietro dei pesi, delle responsabilità. Potrebbero essere responsabilità aziendali, responsabilità familiari. Non vi nego che potrebbe anche essere una questione tra fratelli. Andiamo a vedere il giudizio, perché il giudizio è una carta che mi parla di un risveglio spirituale, di qualcuno che comprende qualche cosa. C'è un punto di vista più ampio. Andiamo a vedere. Queste sono tante. Amanti, giustizia, mago, cinque di bastoni e due di spade. È come se ad un certo punto vi rendeste conto che le cose non sono in equilibrio così come sono, che non c'è amor proprio, anche il nove di pentacoli era girato al contrario, che avete bisogno di agire per conto vostro. Guardate, per qualcuno con queste carte si può parlare di un ipercontrollo, ok? Vi dico. Potrebbe anche esserci qualcuno con questo cinque di bastoni che crea un po' di zizzania. Ed è come se ad un certo punto, verso fine settembre, vi rendeste conto di chi è e di come questa persona sta mettendo zizzania in questo ambiente. sia che sia lavorativo, sia che sia familiare. Le cose, ragazzi, con questa giustizia al contrario non sono in equilibrio, ok? Ricordatevi che la giustizia ha la spada, cioè bisogna tagliare qualche cosa. E che in questo momento, anche col 2 di spade e il 10 di bastoni, è come se... sapete quando uno si rende conto di qualche cosa e dice no, non è possibile, non ci voglio credere, non può essere così. Vi sento in quella fase lì. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Qui ho proprio la sensazione che vi dicano di prendere le distanze. L'otto di coppe è una carta di viaggio, di ricerca interiore, perché è come se lì dove siete non riusciste ad espandervi, a farvi venire delle illusioni, delle nuove idee. Illusione nella... In lingua spagnola si intende come... Sì, una speranza, è qualcosa di positivo in realtà. Il set di coppe è sempre una carta di possibilità, barra, anche illusioni. Ma è come se non aveste la possibilità di farle crescere. C'è qualcuno che continua a rifiutare questa prosperità, questa abbondanza. Andiamo a vedere la carta della forza. Abbiamo l'eremita e l'appeso. È come se vi dicessero di uscire dal vostro guscio, in un certo senso. La carta della forza vi invita a trovare il coraggio, ok? Per poter sbloccare questa situazione di eremitaggio, questa situazione di isolamento, di auto... Mi sfugge il termine. Il lotto di coppe è introspezione, ok? Il lotto di coppe è l'arcano minore dell'eremita, ok? Quindi è come se qualcuno, a fine settembre, si rendesse conto di qualche cosa di ben più grande e di conseguenza ci fosse questa nuova ricerca per capire come diventare madri migliori di se stessi. Diversamente, se l'imperatrice, ragazzi, è proprio la mamma, qui potrebbero consigliarvi di allontanarvi per un periodo da vostra madre o da, se fosse per esempio, un superiore, da questo superiore. Se non potete farlo fisicamente, fatelo perlomeno, diciamo, mentalmente o emotivamente, ok? Perché questa è proprio una questione di amor proprio qui. Andiamo a vedere un oracolo. Però ragazzi, ho diversi cinque. Ho il cinque di spade e il cinque di bastoni che sono sempre le lotte egoiche della mente, le competizioni. Andiamo a vedere un oracolo. Carta numero 13. Allora, ragazzi, questa carta, diciamo, vi ricorda di essere fedeli a voi stessi, ok? Parla anche di realtà. Quindi rendetevi conto di quello che è la realtà delle cose. Come vi dicevo prima, è come se qui qualcuno non volesse vedere, ok? Un determinato tipo di realtà, un determinato tipo di... di impotenza, mi viene da dire. Parla anche di ritmo. Quindi è un po' come se vi ricordasse che tutto ha un ritmo. È una delle leggi universali, la legge del ritmo. Quindi che c'è il momento di up, c'è il momento di down, ma poi torna di nuovo il momento di up. Quindi un po' si sta su, un po' si sta giù. Un po' si sta su, un po' si sta giù, ok? E comunque, ragazzi, la cosa che mi colpisce di questa figura è che ha una parte del viso coperta ed è come se vedesse da un occhio solo. Siccome c'è anche un riferimento alla luna, anche qui abbiamo una carta che fa riferimento alla luna, nei tarocchi la luna parla di quelle che sono le proiezioni, le cose, le verità che si vedono a metà. Come se qui vi dicessero guarite il vostro attaccamento a qualche cosa, a qualche tipo di realtà, a qualche tipo di situazione, ok? E vedete che riuscirete a vedere le cose in modo più chiaro. Quando la giustizia è al contrario, si parla anche di qualche rottura. Potrebbe esserci, verso la fine di settembre, qualche rottura di schemi, può essere una rottura di un'amicizia anche o di una relazione in generale. Però anche qui avete il 4 di coppe e come se proprio non voleste vedere qualche cosa, avete bisogno di rendervi conto di rivalutare un certo tipo di personaggio, magari intorno a voi. La rivalutazione non deve essere necessariamente in negativo o necessariamente in positivo, semplicemente a rivedere il pensiero, l'idea che avete o di una certa relazione o di una certa persona intorno a voi, ok? C'è comunque questo sblocco di questa sensazione di solitudine e di isolamento, ok? Però qui appunto vi dicono che dovete allontanarvi per riuscire ad espandervi, ragazzi. Bene, amici del leone, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare l'energia del prossimo periodo. Se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere o commentare. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro il meglio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao!